tradizionale sagrado ottuno qui a l'anfa tradizionale sagrado ottuno ecco siamo ancora quasi d'estate anche se la stagione ormai è avanzata ma questo ci ci aiuta molto in questa è una giornata dove facciamo la polenta con la salsiccia e formaggio facciamo le castagne il vin brulee ecco questo è il proprio menù autunale è una festa che facciamo tutti gli anni nelle tante manifestazioni che facciamo questa è una nostra cosa interna è una nostra festa per le persone che vivono qua che infatti sono scese tutti dai presidi e stanno scendendo tutti dai presidi ecco dal centro diurno verranno un po di famiglie verranno le autorità a trovare i nostri ragazzi e pertanto è una giornata veramente di gioia poi pomeriggio ci sarà musica perché dopo il vin brulee quella ci vuole ecco e dove ci andremo a divertire tutti insieme dico la verità che è una cosa molto simpatica ecco la apriamo logicamente al arrivaroro tutto ma è una cosa veramente che ci teniamo perché è una festa famiglia è una festa in famiglia della nostra famiglia ecco e e la giornata bella veramente ci aiuta a portare a termine bene come vive la castagnata ma la casa la castagnata una pelle è una pelle sornata vissuta vissuta da tutti e poi è una tante è una tante feste che si fa durante l'anno e spero spero che siano tutti contenti e e orgogliosi di di questa festa e ci mangiamo le castagne e si mangeremo tutti le castagne prossime iniziative in programma allora prossime di programma il l'anno stanno svolgendo al termine però abbiamo due momenti molto importanti classici di dicembre la nostra festa di natale che una tradizione verrà al vesco almeno l'abbiamo invitato ma contiamo come tutti gli anni che venga a passare una mezza giornata con noi che sarà il 12 di dicembre ecco ci sarà poi anche qui una manifestazione dei nostri ragazzi uno spettacolino qualcosina facciamo sempre sarà una sorpresa e l'altra manifestazione invece più integrata con la città e con le altre associazioni è la maratona teleton maratona teleton a cui noi partecipiamo da tanti anni come fondazione comunità la torre insieme a teleton che si svolgerà qui arrivano cannavese il 15 16 e il 22 di dicembre proprio queste saranno le date che faremo i banchetti insieme a teleton e invitiamo tutta la popolazione a partecipare e a comprare diciamo ad acquistare ecco i prodotti che teleton stessa pubblicizza e manda tutta la raccolta per una raccolta che tutti gli anni raggiunge degli ottimi obiettivi che facciamo insieme con teleton e teleton fa insieme con afro sulla ricerca sulla ricerca perché nel nostro campo della girabilità intellettiva sono una delle poche identità non c'è tanta ricerca su questo argomento qua ma noi contiamo che abbiamo già sviluppato determinate cose con teleton ma che negli anni a venire questo aumenti sempre più per permettere una ricerca che ci aiuti a risolvere o parzialmente risolvere i problemi dei nostri ragazzi.